Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video a un 2200, quindi non solo il torno sono malissimo, non ho perso un sacco, ma becco pure comunque avversari forti, quindi benissimo. Non c'è modo di risalire, o meglio, cerchiamo di vincere, vediamo di risalire vincendo. Vb5, minaccia con l'alfiere d7, semplicemente, senza problemi, allora qui potrei giocare e6 con l'idea di alfiere d6, va bene, catturo, catturo di alfiere, con l'e5 giustamente, c'è modo per me di tenere questo alfiere? Dire di no, però almeno cerchiamo di non doppiarci i pedoni, vediamo a c7, catturo di regina, alfiere d6, catturo. No, f4, cavallo in d7, cavallo per, dona per, alfiere d7, torre in g8, alfiere via, e5, ma, ah no, c'è donna f3, c'è donna f3. Ma, tipo, poi arrocco lungo, dai, proviamo. Quindi, sacrifico un pedone e provo poi ad attaccare. Ah, mi cattura qui, ok. I miei alfiere li voglio tenere su queste diagonali, alfiere pettro è qua, alfiere d5, ok. Allora, prima di attaccare, qui è 4, f5, allora, intanto devo arrocco lungo, così ho anche la torre. Adesso questa, questa, f5, è un'idea? No, riesco a raddoppiare f5 prima, f5, e poi i5 magari più forte, cavallo f3. Allora, raddoppio, oppure e4? Secondo me devo raddoppiare, torre in g4. Ah, devo stare attento, però poi arriva il cavallo in e5. Mmm, sta con le 5 d'ho fastidio, se non ci sono tatticismi, no. Ah, non me l'ho fatta, allora raddoppiamo subito. Pedone per, che fa cavallo per, donna per, no, non mi piace. Dove, dove attivare questo alfiere? Dove? Qui, tipo? Ah, posizione brutta. Un'altra idea è portare la regina. Poi dopo, con le 5, questa torre che ci faccio. Piedone per, donna per, vabbè, intanto catturiamo. Così magari apro la colonna c e vediamo. Direi qualcosa, rendi 8. O può fare pure donne 5. Non mi piace questa posizione, devo dire. L'unico, l'unica chance per me sarebbe riuscire a cambiare l'alfiere con il suo cavallo. Torre qui. C4. C4. Ammettando H5. Di donna? Beh, in realtà, costa meglio tenerle le regine. Prima che dopo torre D1, come difendo il pedone, va alfiere C6 che è super passivo. E vabbè. Ah, non aveva fatto torre D1. Vabbè. Prima che se non le cambio, perdo il pedone. Eh, però forse lo preferisco. Anche torre in D8. Ah, D4. D4 bella. D4, cavallo per, pedone per. Eh, dai. Anche per liberarmi. Ok, ha sbagliato. Scacco. Aiuto. Allora, con calma. Qui devo catturare. Catturare, sì. E ora il fene, 4. Ok. Eh, per me va benissimo questa posizione. Ora, o catturo H2, oppure catturo uno di questi due. Ok. 2, 4, 2, 4. Dai. E spingiamo. Subito torre qui. Vabbè, bene. Spingiamo questo. No, mi sono matto. Cavolo, io, quando ero sotto un minuto, senza incremento, proprio, non riesco a giocare. Incredibile. E niente. Un'altra sconfitta. Ci vediamo al prossimo video.